È iniziata la corsa alla direzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il Consiglio Direttivo ha selezionato tre candidati per il ruolo di direttore. Si tratta di Luciano Sammarone, direttore uscente e colonnello dei Carabinieri Forestali, di Vita Antonio Martino, ex direttore del Parco Nazionale Dolomiti Belunesi, e Paolo Cassola, anche lui ex direttore del Parco Nazionale del Circeo. La nomina verrà con decreto del Ministero dell'Ambiente. Il nominativo sarà scelto tra questi tre professionisti iscritti all'albo di Donei. In totale sono state inviate 12 stanze di disponibilità, 9 ammesse al colloquio che si è svolto il 15 luglio scorso. La selezione del nuovo direttore rappresenta un momento importante per il futuro dell'area protetta, che dovrà coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità locali. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è uno dei più antichi e rinomati d'Italia e la valutazione del nuovo direttore avrà un impatto significativo sulle politiche di conservazione e gestione sostenibile. Luciano Sammarone ha già dimostrato la sua competenza nel ruolo, così come Vita Antonio Martino e Paolo Cassola, con le loro esperienze precedenti alla guida di altri importanti parchi nazionali. Grazie. Grazie.